Gli incendi provocano danni economici, per non parlare degli altissimi costi in termini di vite umane. Riuscire ad intervenire in tempo è un fattore decisivo per limitarne l'impatto su uomo e natura. È questo l'obiettivo del robot progettato a Hong Kong. Secondo quanto promettono i suoi costruttori, è fornito del più moderno sistema di rilevamento incendi. Il robot ha due telecamere, una sensibile alla temperatura, l'altra alla intensità della luce. La prima registra 50 frame per secondo e noi usiamo un algoritmo per analizzare l'andamento del calore e verificare se gli oggetti roventi nell'immagine sono incendi o altri elementi. Usando sensori per misurare la temperatura e tecnologie avanzate di visualizzazione, il robot è in grado di individuare gli incendi in aree molto piccole, anche di due metri per uno, in un raggio di 5 chilometri, riuscendo a coprire quasi 80 chilometri quadrati, si tratti di una foresta o di un'area abitata. Dopo aver rilevato l'esistenza di un incendio, individuiamo l'area attraverso il sistema di geolocalizzazione, evidenziando sulla mappa il punto esatto, così da facilitare il lavoro dei vigili del fuoco. Grazie a questa opzione, gli operatori chiamati ad intervenire possono utilizzare al meglio gli aerei per lo spegnimento degli incendi, guidandoli nel punto giusto con strumenti ad altissima precisione.